Si gioca per il passaggio del turno in gara secca e non è una partita come le altre. Stasera vogliamo la semifinale di Coppa Italia e faremo di tutto in campo per ottenerla. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza di un gol dai ragazzi, anche se il primo pallone lo gioca Di Avarà. Under, palla dentro per Kalinic al limite, va su di lui Bonucci, attenzione che arriva anche Florenzi Servito, ce l'ha sul mancino, sottoporta la deviazione di Kluivert, un buffon a terra, Douglas allunga per Higuain, c'è lo scatto di Cristiano Servito sull'esterno di sinistra e allora Higuain, Douglas Costa si porta in un'area, c'è anche Danilo d'altra parte, Ronaldo, Ronaldo accenna a sinistra, gol, 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 sì! 1-0 Juve, parte tutto centralmente dai Higuain che serve sull'esterno Cristiano, qui qualunque essere umano sarebbe andato al cross e invece lui no, con il mancino ha infilato Paolo Lopez, 1-0 Juve, Cristiano Ronaldo. Alessandro, per Arabiò, fa sfilare su Ronaldo, Ronaldo restituisce palla, tutto capo Arabiò, attenzione, corre Douglas Costa a destra, c'è Higuain già in area di rigore. 2-3, vede Pjanic, Ronaldo ai 25 metri, Ronaldo attenzione, bene per Danilo, limite dell'area, carica al destro, Danilo! La palla fuori di un paio di metri, con Paolo Lopez in tuffo a controllare la traiettoria. Pallone che finisce a Bentancur, attenzione che abbiamo superiorità a destra, dall'altra parte c'è già velocissimo però Ronaldo a sinistra, Douglas, Douglas, Douglas Costa, 3 davanti, bene, l'assist dentro per Bentancur, attenzione a destra, gol, 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 gol! La Juve in gol al raddoppio con Rodrigo Lolo Bentancur! Dopo questa discesa di Douglas Costa, segna allo stadio Rodrigo Bentancur! 2-0 Juve! Ancora 30 secondi da giocare, scambio tra i due, Pjanic per Douglas Costa. Douglas, bello il cross al centro, Eric, testa, gol, 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 gol! Leonardo! Bonucci in gol, 3-0! Ecco che arriva uno e arriva due, il duplice fischio del signor Rocchi manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi. La Juventus è avanti sulla Roma per 3-0. Attenzione, Roma pericolosa alla centro, sulla tre quarti Pellegrini, c'era su Mancino, il tiro! Un forno, palla lì, palo! Clamoroso della Roma! Ronaldo! Ronaldo si fa tutto il campo sulla destra, guarda in area, non c'è nessuno, arriva adesso Gonzalo. E allora il cross di Ronaldo è per il colpo di testa di Guain! Il cross dei pali, incredibile! Under. Under. Punta poi, retrocede, limite dell'area, può tirare, guarda la porta, effettua il tiro! Traversa, schiera di Buffon, rete. Accorcia le distanze la Roma con Under al minuto numero 49, 44 secondi. Va a segnare il gol del 3-1. Per Ronaldo in controtempo, palla riconquistata ancora dalla Roma, c'è un buco di là pericolosissimo, davanti a Buffon in sinistro, Gigi! Si miracola e respinge il tentativo di gol da parte di Florenzi e poi esulta giustamente Buffon. Attenzione, Bentancur, bene, Higuain, quadrato in posizione regolare, scavalcato dal pallone, si gira e lo riprende. Il cross tagliente, bello per Gonzalo! Grandissima parata di Paolo Lopez, distinto! Ronaldo, Higuain, Ramsey, ci avviciniamo all'area, attenzione, Ramsey, Ramsey vede la porta, destro di Ramsey! Deviato il pallone, in calcio d'angolo. Siamo rimasti in due attacchi da destra, posizione regolare. Il servizio è per Pjanic, che fa l'ala, attenzione! Può metterla in mezzo, mira l'emecolo, retto passaggio, Ronaldo, adesso il volo! La palla fuori! Di prima battuta alla conclusione di Cristiano. Santon, parte il cross centrale, non trova il pallone Pellegrini, c'era Bruno Perez che tira addosso a Bentancur. Ancora Collaro per la Roma, una sassata fuori dall'incrocio dei pali, direttamente in sud. Under palla dentro, testa! Grande salvataggio di Gigi! Altra paratola di Buffon. Arriva uno, arriva due, arriva finalmente tre. Il triplice fischio del signor Rocchi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. La Juventus batte la Roma 3-1. La Juventus batte la Roma 3-1.